Costa d'oro, un'azienda che con i vini del Chiaretto e del Bardolino da tempo è impegnata in produzione di spumante di qualità, il suo brutto ormai trentennale ha avuto anche molti riconoscimenti, ma quest'anno c'è anche la novità della produzione col metodo classico, cosa possiamo dire in proposito? Metodo classico, quest'anno usciremo con il Bardolino classico Chiaretto demi-sec, metodo tradizionale, fermentazione in bottiglia, due anni. E quante bottiglie producete di questo? Allora, qua siamo ancora in una produzione molto limitata, è stato un esperimento e siamo in circa intorno alle mille bottiglie. Mentre del brutto metodo Charmat quanto ne fate? Charmat siamo arrivati a 8500 bottiglie. Su un totale di tutta la cantina? 100.000 bottiglie.